Partita, diventa difficile parlare di una partita quando si allena un attacco che non segna e quindi mi sento responsabile di questo attacco che non va. Una volta che la difesa non supporta la partita noi cadiamo in una debacle incredibile. La partita non mi è piaciuta per niente, tutto quello che abbiamo provato in queste due settimane non è venuto e ci hanno dominato dall'inizio alla fine, noi siamo ancora molto imprecisi sui lanci e le corse che all'inizio venivano, tutti i drive sono stati sempre rotti da offambolo o errori marchiani che la nostra squadra purtroppo non si può permettere e quindi la partita non mi è piaciuta e dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo vincere una delle due partite che ci rimangono per avere la matematica certezza di entrare nei play-off. Questo è quanto.